Salve a tutti ragazzi, qui è JosephedGamer e benvenuti in questo primissimo video del mio secondo canale Joseph Games. Come saprete ormai il mio primo canale, ovvero JosephedGamer, ha quasi superato la soia dei 50.000 iscritti, quindi mi sono finalmente deciso di aprire un canale secondario. Per questo canale ho davvero tantissimi progetti e soprattutto ho intenzione di fare un po' di collaborazioni con altri youtubers su giochi che magari potrete anche decidere voi. Volevo poi proporre, che ne so, magari Q&A su questo secondo canale, video di cazzeggio, magari anche video più leggeri che per un motivo o per un altro non potrei caricare sul primo canale o comunque magari video anche registrati su tablet e smartphone, su giochini piuttosto interessanti e divertenti. Grazie a questo secondo canale quindi potrò organizzarmi meglio anche con il primo, visto che come saprete sul primo canale propongo ormai davvero di tutto, video di ogni genere, quindi cazzeggio, walkthrough, Q&A, guide, davvero un bordello di roba. Invece grazie al secondo canale potrò appunto dividere diverse cose e mettere alcune sul primo e altre sul secondo. Quindi ragazzi per ora è tutto, vi basti sapere che ho davvero tantissimi progetti sia per il primo che per il secondo canale e sono sicuro che nel corso di questo 2015 ci divertiremo tantissimo insieme. Ricordate quindi di iscrivervi, fatelo ora e ricordate anche di seguirmi sulla mia pagina Facebook, link in descrizione. Quindi ragazzi per ora è tutto e alla prossima, ciao!